In questo video vi presenteremo i tutori della linea Optima. Abbiamo tutori di altezze diverse con strutture diverse per gestire differenti quadri patologici. Le caratteristiche comuni a tutti i nostri tutori sono quelli di avere dei contrafforti termomodellabili, una suola fully rocking, antiflessione e antitorsione e una tomaia traspirante. Adesso andiamo a vederli uno per uno. Optima Diab è il tutore che ha cambiato le linee guida internazionali, è un tutore alto con la possibilità di essere reso irremovibile. Abbiamo Optima Cleel, è il tutore ideale per la gestione delle lesioni del calcagno. Abbiamo Optima Post-op, un tutore alto fino a caviglia ideale per la gestione delle lesioni vascolari. Abbiamo Optima Europa, un tutore leggermente più basso di Optima Post-op, ideale per la gestione della chirurgia dell'avampiede e delle lesioni interdigitali. E infine abbiamo Optima Free, un tutore ideale per la gestione delle lesioni dorsali grazie alla sua peculiarità di poter rimuovere il velcro anteriore. Il tutore le cui evidenze cliniche hanno portato a ritenere il tutore alto fino al ginocchio reso irremovibile, la terapia Gold Standard per la gestione della lesione neuropatica plantare.